L'errore di Huff, riparte l'Umana, Young, Shevchik, palla per Diavara, Bulleri, la tripla segno di Massimo Bulleri e subito timeout per Croccio-Gresta che non vuole assolutamente permettere Bowers, Bulleri. Si cerca Fantoni nel post basso contro Peric, il raddoppio di Costi, Bulleri dalla media e il canestro attacca con più raziocini ora l'Umana, da dimenticare per lui, uno su due, meno sette, Umana.